E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, fate iscrivere, condividete, devastate di mi piace questo importante video nel quale affrontiamo a pioggia diverse questioni. Seguite Surfasport su Instagram sempre. Guardatevi i video fatti, quello di ieri sul calcio a mercato, tante situazioni sentenziate di attualità, recuperatevelo, la live di fare calcio a nord-est, Fiorentina, insomma, guardatevi tutta la produzione esposta. Vi ricordo per abbonati base il 10 agosto 11.30 tutti i miei consigli fantacalcistici a basso costo, tutti i vari giocatori come fatto l'anno scorso che oggi non pagate un cazzo in termini di crediti e vi valgono veramente, vi varranno veramente il devasto. Poi la settimana di ferragosto, sempre per abbonati base, faremo anche una live dedicata alla serie B, all'inizio della serie B. Quindi, insomma, iscrivetevi, devastate, guardate e seguitemi anche su Instagram AlessandroCatto91. Allora, oggi c'è la notizia del potenziale, del probabile, del sempre più vicino rinnovo di Milenkovic, va bene, del resto siamo sempre stati, se vi ricordate l'ultimo aggiornamento in materia sul canale, abbastanza fiduciosi sulla questione, sia per la situazione delle possibili pretendenti, la Juve, insomma, che è piena di difensori destri, l'Inter che probabilmente al netto dell'uscita di Skriniar non ci sarebbe andato, insomma, poche pretendenti capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo, convenienza, come vi dicevo, anche penso, dello stesso Milenkovic e della Fiorentina a continuare il rapporto. Quindi, insomma, sarebbe un tassello importante, anche perché trovare difensori con la sua lideristica, alla sua età, con la sua qualità, con il mix di cose che lo caratterizzano, specialmente in questo momento del mercato, sarebbe stata operazione ardua. Quindi, insomma, una cosa importante che spero ci permetta poi di concentrarci sulla mezzala che ci serve, perché penso sia importante, e perché no, magari su un quarto difensore da inserire nell'otto pacchetti. Comunque, un'ottima notizia anche per l'affetto, insomma, no? E per l'affettato, per l'affetto che ci lega al buon Nicola, speriamo venga ratificata al più presto questa continuazione del rapporto. Poi vi dico anche altre cose, ok? Vi dico anche altre cose. Cos'è che dovevo... Ah, no, scusate, ho sbagliato foglio. Dovevo prendere questo, con tutte le cose che vi dovevo dire oggi e che mi ero segnato. Ah sì, allora, per il Brighton, ieri, siamo venuti ieri a parlare di questo Cucurelia al Chelsea, va bene, che poi parliamo del mercato del Chelsea, ma io mi ricollego a quanto detto con il pontatinatore folle. Se il Brighton è alla ricerca di un sostituto, ma vada veramente su Borna Sosa, a meno che non ci vada già il City, Borna Sosa al Brighton, specie se Udo G è già del Tottenham, Borna Sosa al Brighton è un altro che tra due anni ti vale 40-50 milioni, quindi questo è il mio consiglio per il Brighton. Dicevo, calcio al mercato Chelsea, in realtà non è che mi abbia fomentato particolarmente, penso a tante occasioni perse, penso a Koundé che è andato al Barcellona, penso allo stesso De Ligt che è andato al Bayern, questo acquisto di Coulibaly che non so veramente quanto possa gasarmi, quanto possa incidere, come vi ho spiegato al tempo, specie se lo si usa a braccetto, come ho visto addirittura, non lo so, io avrei visto bene per esempio al Chelsea CR7, adesso tutti parlano di te, adesso è diventato di moda fecare CR7, quando eravamo noi a sgonfiare l'affare che la Juve fece, al netto dei numeri che poi sono stati di tutto rispetto, sembrava di essere cani in chiesa, adesso va di moda sparare su CR7, perché non ci sono mai mezze misure, quando il popolaggio greve, quando il popolaccio greve arriva in ritardo su una cosa lo fa in modo totalmente sgraziato, ecco gli per esempio CR7 in realtà è uno che al Chelsea nel 3-4-2-1 di Touche l'avrei visto molto bene, vedrei molto bene, si è preferito andare su Sterling che vabbè non è che mi gasi particolarmente questo Sterling al Chelsea, io avrei fatto una doppia cosa, avrei introiettato CR7, lo puoi ancora fare, perché CR7 comunque negli ultimi tempi della sua carriera può anche giocare come avanti, come centroavanti, lo piazzi lì davanti e avrei puntato anche su Armando Broca, che è veramente un giocatore che mi piace molto, avrei dato più fiducia ad Armando Broca, avrei puntato su CR7, c'era l'occasione dell'Igt, perché no Koundé, invece non è che mi stia entusiasmando molto il calcio a mercato del Chelsea, poi veniamo anche all'Inter perché ci sono anche altre due questioni su cui il mainstream è un po' arrivato, specialmente una, quello dello scouting e del puntare sui giovani che adesso in molti stanno reprimendo Marotta, la dirigenza non si fa scouting, dov'è finito ausilio? Che mi fa piacere, però anche un'altra cosa che preoccupa è quella delle fasce, anche qui a suo tempo vi disse attenzione, perché l'Inter ha tanti zoccoli ma poche scarpe, specie dopo l'addio di Perisic, no? E qui oltre io a dare, quindi a fornire chiavi di lettura per tempo, ne sposo totalmente un'altra, che è per esempio quella anche del buon Fabio Bergomi, a cui faccio gli auguri, glielo ho già fatti ma glieli faccio anche pubblicamente, lui giustamente dice ma perché non si è potuto puntare su Perisic e Gosens a destra, no? Ma io sono assolutamente d'accordo, io vi dico la verità, Perisic avrei cercato di rinnovarlo per tempo perché è un giocatore forte, di esperienza, di qualità, però anche lì è un'altra cosa che puoi imputare al mister, perché io vi rispondo, è giustissimo, anch'io avrei giocato spesse volte con Gosens a destra e Perisic a sinistra, ma quante volte l'ha fatto il mister anche qui? Poco coraggio anche lì, poi avevo che in sede di mercato, quando tu le cose non le fai sul campo, non puoi recriminarle sul mercato, capito? E' come per esempio Italiano, che non ha mai fatto giocare Amrabate e Torreira insieme, se tu magari lo facevi, oltre a fare dei buoni risultati sul campo, della buona gestionalità sul campo, magari poi in sede di calciomercato i giocatori avevano un peso diverso, e avevano anche un'abitudine diversa, penso a Gosens, a tornare a regime, a incidere, capito? Ad impattare, io sono completamente d'accordo, però c'è un allenatore che non l'ha mai fatto, purtroppo quella di Gosens a destra, no? Questo io dico, poi, veniamo a Kostic alla Juventus, ecco questa è un'altra situazione, un'altra poverata tattica del calcio italiano, perché a me Kostic piace, è un giocatore non più giovanissimo, però penso che possa fare ancora bene qualche anno, però, com'è che penso possa fare bene? Ma in una situazione nella quale lui gioca o terzino, oppure esterno a tutta fascia, in una squadra che fa difesa a tre, no? Come ha fatto spesso all'Entrekt, cioè io devo leggere di Kostic che viene alla Juve a fare l'esterno alto, ma che poverata tattica è, cioè proprio vi dà, è il ritratto della mentalità, non solo, diciamo, un po' del calcio italiano sparagnino, della scuola sparagnina di certi allenatori italiani, ma poi anche proprio di Allegri, cioè se veramente tu pigli Kostic per fargli fare l'ala, è una poverata, una paurata, veramente senza senso, ma Kostic lo devi mettere a fare il terzino a sinistro, o lo devi mettere a fare all'esterno se giochi a tre, che se c'è veramente prendere Kostic per fargli fare l'esterno alto è di una povertà totale, come cosa, ma che se come prendere Odiozola e fargli fare l'esterno alto nel 4-3-3, è una cosa veramente senza senso alcuno. Anche questo, per esempio, Kostic lo avrei visto meglio all'Inter, quantomeno sapevi che avrebbe fatto l'esterno a tutta fascia nel caso, no? Come Bremer, la Juve è uno spreco per tanti giocatori, si aggiungerebbe anche Kostic nel caso in cui venisse a fare l'esterno alto. Poi ve ne aggiungo un altro, a mio malgrado mi trovo a dover dare dei consigli al Monza, o meglio delle constatazioni, perché devo dire che se il Monza chiude il mercato con Pablo Marie e Icardi, per me ha già fatto il suo, ha già fatto un ottimo mercato, anche se per Marie al Monza, io a parte che spero sempre che si possa inserire il Verona, o perché no una Fiorentina, però anche lì pensavo, ma Marie al Monza cosa fa? Il centrale della difesa a tre? Oppure giocano a quattro? A me pare giochino a tre ancora. Però se tu pigli Marie e giochi a tre, l'ideale è fargli fare il centrale, ma il Monza ha già ranocchio in quella posizione, quindi prendere Marie per fargli fare il bracetto, non so se sia proprio il caso, vista la velocità, tra virgolette, del giocatore e via dicendo, se lo pigli per fargli fare il centrale, significa che ranocchio finisce in panca anche a Monza, cosa possibilissima, lecitissima, per carità, però basta un attimo capirsi su sta cosa, anche perché il Monza mi pare che più che nel centrale, abbia bisogno nei braccetti di qualche rinforzo, se si parla di difesa. Dico chiuda con i Cardi perché ci sta, sì, Berlusconismo, battutina nello spogliatoio, no, i Petagna, se si devono fare le roboanze fatte bene, si riporti i Cardi con Berlusconi e via dicendo, i Cardi al Monza avete voluto fare certe roboanze, non tutte perché ci sono state anche operazioni intelligenti sui giovani, però se si vuole chiudere con una roboanza, si chiuda con i Cardi. Poi chiudo anche con una pontatina che mi ha desfatto, cioè quella di Escalante alla Cremonese, che tutti ci sputeranno sopra, tutti diranno ma chi è, cosa fa, e via dicendo, invece l'ho sentita, l'ho sentita e mi ha fatto godere, l'ho sentita e mi è piaciuta. Il mercato con testa della Cremonese manca ancora qualcosa, però qualche colpo fatto mi è di molto piaciuto. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto. Grazie.